Ciao ragazzi, mio nome è StarzataD3 e benvenuti a mio canale oggi. Voglio parlare del support barb per questa metà di pizza con il Monk. Ho spaventato questo build molto e è molto divertente, bisogna muovere molto, hai molta mobilità e puoi tirare mobili da tutte le mappe in un punto. Questo è molto bello. Questo build non è facile da creare, solo bisogna Ilusori Boots di Bounties e magari Cain e Borg, ma non sono dei modi che devi bisognavi. Prima di giocare il Monk, ho spaventato questo con un paragon low, se non mi ricordo, 700. Non bisognavi paragoni per giocare 110 speed. Se puoi vedere qui, ti prendi tutti i mobi in un punto, ti prendi le mobi, ti prendi le spaventate le spaventate e, sì, BOOM! Tutti i mobi sono subito. Ok, credo, possiamo controllare la build, ora qui abbiamo Luric's Crown per ingressare il Cooldown con un diamo in un socket. Abbiamo un tempo per avere più tempo sui pylons. poi abbiamo Strong Embracers per migliorare il damage di nostro gruppo, proccando con Furious Charge per la maggior parte del tempo e un po' tra l'Anse e Spear poi abbiamo Pride of Caste per migliorare la durazione di In Your Pain poi abbiamo Illusori Boots per migliorare per la maggior parte del gruppo poi abbiamo L-Fire Ring per la maggior parte del gruppo per la maggior parte del gruppo per la maggior parte del gruppo poi abbiamo Illusori per il gruppo poi vi raccontare l'Anse e poi abbiamo In-Game per migliorare il nostro gruppo per spaventare le spaventate le spaventate poi abbiamo due set qui abbiamo Borne che daranno 15% live, cooldown e l'Experience lo stesso per l-Fire Ring lo stesso per Cain abbiamo l'attac speed di 8% ma lo prendiamo per l'Experience e Borne per l'Experience lo stesso per l-Fire Ring e non otteniamo l'Experience di queste due set e l'Fire Ring dentro del rift ma abbiamo l'experience se lo vedete si dice che questo è effetto da 100% in Rift ma quando si chiama il rift prenderanno il buff di 11.5% e avremo l'Experience e è un po' è qualcosa se vuoi se vuoi non bisogna spaventare questo set potete spaventare 2 items di Rike o Aquila Coiras ma credo che questo set up è il migliore credo ora vediamo i Gems qui abbiamo Gogo Co-Sweetness qui abbiamo Gem Toxin per Damage Reduction da Damage Taken e Damage Buff da un gruppo e poi abbiamo Rift of Lightning per la Moverspeed niente di diverso e proviamo le abilità abbiamo Furious Charge con Merciless Assault per ridurre il cooldown di Furious Charge per ridurre il cooldown per 2 secondi Ancient Spear per pull per pulare le mobs poi abbiamo Tredding Shouts per aumentare il damage di un gruppo sprint per la Moverspeed di un gruppo con Forced Marche poi abbiamo Warcry con Ardent Vrat per dare sustain a un gruppo In Your Pain la stessa di Warcry che darà Damage Reduction di circa 25% e Immunità per Contro Impair poi abbiamo Passive Nervso Steel per permettere di non morire una volta questo è bello Spearing Presence per dare Regeneration da nostre Shouts e sì le Shouts per 120 secondi ma si spano poi abbiamo Pando Flash per la Moverspeed poi abbiamo Forgiving per generare Fury e non Degenerare il potremmo 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 invece di questo ma ho provato questa Passive e credo questo è il migliore perché potremmo potremmo l'Unsight Spear in cui abbiamo Executioner che con 10% o meno Chilinx Chain per aumentare la Moverspeed e la Speed di nostra gruppe poi abbiamo Band of Might che creano il nostro sostanzo perché senza questo moriremo più veloce e importante le principali le stazioni di questa build sono solo cooldown su tutti gli item se vuoi potremmo potremmo costo ma il primo è cooldown su tutti gli item potremmo 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 e è tutto grazie grazie per aver guardato potremmo potremmo il video grazie e vi vediamo la prossima time. Bye-bye! 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 Bye-bye!